Manca un servizio di trasporto al mare per i disabili. La denuncia arriva dal Comitato delle Mamme ai microfoni di TV City. Ci sono famiglie in difficoltà che non sanno come far fronte a questo problema. Attacca Carmela Russo, portavoce del Comitato. Già la scorsa estate avevamo chiesto di provvedere con una navetta. Spesso nei mezzi pubblici le pedane non funzionano. Non sappiamo più a chi rivolgerci. Ma non è questo l'unico problema. Alla base del malcontento delle mamme anche la questione della compartecipazione per l'assistenza domiciliare. Le problematiche sui disabili sono tante. Veramente staremo qui una vita interna per elencarle. In questo momento vogliamo elencare almeno quelle là attuali che ci stanno dando un po' di problemi. Sto parlando della compartecipazione per il servizio assistenza a casa perché le persone sono state chiamate da quelli dei servizi sociali a partecipare economicamente su questa cosa. Vorremmo capire un pochino di più perché mi sembrano delle cifre un poco troppo esagerate per questo tipo di situazione. Poi abbiamo ancora un altro problema che ogni anno abbiamo sempre parlato di questa cosa per quanto riguarda il trasporto al mare per i ragazzi disabili e che purtroppo ancora adesso è iniziata l'estate ma non abbiamo ancora ricevuto niente. Non sappiamo ancora queste persone come potranno spostarsi. Ci sono persone che non guidano, non hanno un familiare, devono fare tutte da sole. Ci sono questi mezzi pubblici che andrebbero rivisti con le pedane fatte per bene e fermarsi alle ore giuste in modo che questi familiari con queste persone disabili possano così andare comunque a mare. La cosa potrebbe essere anche semplice ma comunque ancora adesso non ci hanno fatto sapere ancora niente per quanto riguarda questo trasporto.